Casse vuote, debiti fuori bilancio, una mancanza di risorse diventate in alcuni casi cronica. I comuni siciliani annaspano sempre più. I tagli effettuati sia a livello nazionale che regionale hanno sancito il dissesto di ben 21 amministrazioni comunali nell'isola, mentre altre 12 sono in stato di predissesto. Bisogna reperire nuove risorse, ma soprattutto indicare nuove strategie di gestione per ambiti complessi come quello dei tributi locali. Un aspetto ribadito da Anci Sicilia anche stamane, in occasione della giornata di formazione sulla fiscalità locale e la legge di stabilità tenutasi a Palermo. Se ci riferiamo al Fondo Autonomie Locali, il DL 69 prevede per i comuni 306 milioni, a fronte di 651 milioni dell'anno precedente. Quindi ci rendiamo conto che è un taglio insopportabile, più del 50%, così non si può andare da nessuna parte. Se vogliamo chiuderli i comuni, stabiliamo direttamente che le competenze sono sottratte ai comuni e magari assegnate alla regione. I comuni devono investire molto in settori che prima erano marginali, come quello appunto dei tributi. devono essere capaci di ridurre molte spese che prima sostenevano forse troppo allegramente e quindi devono intervenire con la spending review, riducendo al massimo le spese inutili e affrontando soltanto le spese realmente necessarie. Le speranze si concentrano adesso sulla task force di prossima Costituzione, un vero piano di emergenza voluto dall'assessore Patrizia Valenti e che riunirà alla ricerca di soluzioni gli assessorati regionali all'economia e alle autonomie locali, l'Anci e l'IFEL.